Errore umano, guasto del velivolo o malore? Sono tre gli interrogativi a due giorni dalla tragedia durante l'Air Show ad Alba Adriatica. Sulla vicenda sono state aperte tre inchieste, quella della Procura di Teramo, quella dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo e quella dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile. Intanto Luigi Wilmo Franceschetti, il pilota sopravvissuto e indagato per disastro aviatorio ed omicidio colposo, nella giornata di ieri ha preferito non parlare con gli investigatori che dopo avergli notificato l'avviso di garanzia gli hanno chiesto se se la sentiva di fornire una prima ricostruzione dell'accaduto. L'uomo, molto provato dalla vicenda e dalla morte del collega, sarà adesso ascoltato nei prossimi giorni. Il PM Stefano Giovagnoni ha affidato l'autopsia sul capo pilota Marco Ricci ad Antonio Tombolini di Macerata che la eseguirà domani, mercoledì 3 giugno, presso l'ospedale di Teramo. Sarà utile a stabilire in quali circostanze è morto il pilota, Ricci è morto a causa dello scontro aereo o per annegamento? Solo l'esame autoptico potrà rispondere al quesito del magistrato. Intanto si sono concluse ieri le operazioni di recupero dei due velivoli sul posto, il nucleo dei sommozzatori di Teramo, che con un lavoro assai delicato hanno fatto scorrere delle fasce attorno al velivolo precipitato a largo, evitando che si potesse danneggiare ulteriormente. Un'operazione, quella di preparazione prima di stare il mezzo, che ha richiesto del tempo. L'aereo, dopo l'impatto con la superficie dell'acqua, si è quasi accartocciato su se stesso, presentava un'ala staccata, persa dopo lo scontro in cielo, e che è stata recuperata dagli stessi sommozzatori a pochi metri di distanza dal resto del relitto. Per quanto riguarda l'altro velivolo, planato ad oltre un chilometro di distanza dal punto di impatto in aria, a pochi metri dalla riva, gli investigatori hanno dovuto smontare alcune parti per poi caricarlo su un mezzo adeguato. Entrambi gli aerei sono stati trasportati all'aeroclub di Corropoli, dove saranno effettuate le perizie tecniche disposte dalla magistratura e dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza sul Volo. In queste ore, infine, gli investigatori hanno ascoltato e stanno ascoltando tutta una serie di persone, a cominciare dai responsabili dell'organizzazione dell'evento, che potrebbero fornire particolari utili alle indagini. Così come dettagli interessanti potrebbero emergere dall'osservazione delle riprese effettuate dai tantissimi spettatori presenti.